Passa da questa firma il presente e il futuro dell'Arezzo. Davide Moscardelli, dopo aver raggiunto le 15 reti in Amaranto e vicino a superare il record di reti stagionali in carriera, ha firmato il rinnovo contrattuale con la società Amaranto, una firma apposta davanti a decine di tifosi. Un segnale alla piazza sull'Arezzo che verrà, a prescindere dall'esito dei play-off. Già c'era un po' da tempo con una stretta di mano che per me e per il direttore vale molto di più, però era giusto formalizzarlo, quindi sono contento, siamo contenti. Il fatto di avere un gran gruppo, una grande squadra è una società importante dietro e poi certo l'ambiente ci mette del suo perché mi hanno accolto benissimo all'inizio, anche quando ho fatto un po' di fatica i gol non arrivavano, quindi sono veramente contento e orgoglioso, quindi è una cosa importante per me continuare con questa maglia per ripagare anche l'affetto che stiamo ricevendo dai tifosi. Al di là dei gol c'è questo affetto proprio da parte dei tifosi che si sono molto affezionati a te, ci si sta creando un bellissimo legame che penso percepisci. Sì, assolutamente sì, ho detto prima anche dall'inizio mi hanno sostenuto perché vedevano quello che metto in campo che ho sempre fatto per tutta la mia carriera, quindi che mi ha portato ad arrivare anche in Serie A a 30 anni, quindi quella cosa non può mancare nelle mie prestazioni. Poi a volte esce una buona partita, a volte meno, adesso sto vivendo un buon momento e spero che prosegui così perché adesso arriva lo sprint finale e il bello comincia adesso. Ha detto il direttore che ha voluto aspettare il quindicesimo gol per mettere questa firma. Eh sì, era stato detto così in tempi non sospetti, quindi sono uomo di parole, ho voluto aspettare e convinto di riuscire a arrivare a questo traguardo che però ancora voglio migliorare perché serve appunto questo sprint finale che ci può portare a fare il salto di qualità per fare un grande campionato. Grazie a tutti.